tutto ambiente podcast buongiorno a tutti grazie cercherò di essere breve allora cos'è car glass car glass collabora con lo studio maglia da tantissimo da tutto in tutto a tempo tutto ambiente da tantissimi anni però giusto per farvi capire che cos'è magari voi ci conoscete perché magari qualcuno di voi ha rotto un vetro ma a dire la verità l'azienda è molto grande siamo una multinazionale abbiamo più di 30 mila dipendenti 200 sono le filiali dirette che abbiamo in italia questo per darvi semplicemente una piccola visione delle della quantità di aziende di che cosa c'è dietro siamo in italia dall 88 abbiamo 183 più altri 17 che si stanno aprendo negli ultimi mesi abbiamo origlas che vende cristalli a tutti quindi a noi a dottor glass e anche il resto del mercato e poi siamo anche proprietari del marchio dottor glass quindi questo per farvi capire che se rompete il vetro da qualche parte noi centriamo detto che ovviamente nel caso aveste bisogno potete tranquillamente rivolgervi a noi allora cos'è questa cosa che abbiamo fatto insieme noi sono anni ultradecennale quello che è la collaborazione che abbiamo con tutto ambiente si cercava si parlava prima di un compagno di viaggio beh sicuramente noi abbiamo trovato un compagno di viaggio tanto tanto tempo fa e quando ci siamo conosciuti avevamo 35 filiali e noi anche altre e neanche le altre due aziende che oggi abbiamo quindi eravamo veramente piccoli in italia in italia eravamo appena arrivati sicuramente oggi possiamo dire che siamo una grande partnership super consolidata con lui grazie a lui grazie alla collaborazione che si è creata in questi anni abbiamo avuto tante idee tante innovazioni perché noi crediamo in una sostenibilità che assolutamente non c'entra niente col greenwashing diciamo che il nostro gruppo ci crede qualcosa di molto profondo molto radicato in noi e ci crediamo tutti abbiamo degli ambassador interni quindi persone che all'interno del nostro dei nostri stakeholder sono persone che sono deputate a cercare delle nuove idee per farle diventare vere queste sono una piccola idea che è diventata vera allora noi cosa facciamo sostituiamo il parabrezza benissimo cosa succede al parabrezza recuperiamo questo parabrezza perché il 100 per cento dei parabrezza che recuperiamo perché che sostituiamo lo recuperiamo grazie a un partner questo viene trasformato di nuovo in materia prima sappiamo tutti che il cristallo è riciclabile ma noi abbiamo voluto curare tutta questa filiera e grazie ai consigli alla collaborazione che c'è stata con tutto con tutto ambiente abbiamo prodotto due milioni e mezzo di bottiglie queste bottiglie qui perché le abbiamo riprodotte e le abbiamo dati in mano ai nostri clienti perché è troppo facile dire che noi recuperiamo il cristallo lo fanno tutti quando la mettono nella campana del vetro ma quando entrano in un negozio e tu dai in mano una bottiglia e gli dici che questo era un parabrezza quello che ha appena cambiato tu cambia completamente il feeling che la persona ha nel momento in cui gli si fa capire il che cos'è l'ambiente quanto noi ci crediamo e come gli spieghiamo cosa c'è dietro a questa operazione banale perché magari per qualcuno può essere banale ma banale non è stato costruire tutta questa questo ambiente virtuoso che ha creato questa economia circolare perché stiamo parlando di milioni di pezzi e quindi questo era per portarvi semplicemente una delle idee che sono arrivate abbiamo completamente virtualizzato il processo dei registri ambientali quindi voi potete pensare il nostro tecnico che del solito è singolo all'interno della nostra filiale tutta la parte normativa burocratica che deve essere gestita grazie alla collaborazione con tutto ambiente e ovviamente l'utilizzo di software che ci ha permesso di fare questo abbiamo centralizzato il tutto riducendo gli errori praticamente del 90% quindi questo evitando che si creassero delle serie problematiche reputazionali per l'azienda torno invece a questa piccola idea questa piccola idea non è tanto piccola perché sta facendo il giro del mondo e in gran parte delle nostre nazioni delle nostre consociate stanno cercando di copiare questa idea ma ne abbiamo già pronte di altre che possono partire sempre che sono frutto di idee innovazioni punti di vista spunti che si trovano sul mercato o semplicemente all'interno delle persone che lavorano con noi perché ci credono tutti altra grande cosa che abbiamo fatto che abbiamo sempre studiato insieme abbiamo creato ai nostri stakeholder cercato di far passare quella che è la logica di un'isola ecologica all'interno della nostra filiale noi ovviamente produciamo determinate una serie infinita di infinita finita fortunatamente perché non siamo particolarmente impattanti ma abbiamo tutti questi prodotti che vengono quotidianamente prodotti questi rifiuti che produciamo quotidianamente benissimo il 94 per cento il 95 per cento dei rifiuti che noi produciamo sono portati o riciclo o recuperati solo il 5 per cento di quello che noi produciamo viene portato in landfill quindi anche questo ci pone a livelli della svizzera per quanto riguarda il ranking della 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 berron considerati sono nazioni molto più evolute di noi che hanno percentuali superiori al 30 35 per cento questo per far vedere quanto quanto questa cosa è importante per noi ma è importante perché perché abbiamo conosciuto le persone giuste collaboriamo con gli con i consulenti giusti io in questo l'azienda faccio il procurement manager il property manager e ho la delega all'ambiente per quanto riguarda questa per quanto per quanto la parte ambientale quindi la i dell'isg perché abbiamo anche tutto un'altra parte social la parte g è gestita dal nostro business framework quindi noi abbiamo un responsabile che è un dirigente apicale che ha la responsabilità e ha due deleghe una parte sociale dove c'è una collega che si occupa di questo per tutto quello che riguarda il mondo del social e ne abbiamo tantissimi ma non siamo qui a parlare di quello e poi di tutta la parte ambientale che è tutto quello un piccolo pezzettino che vi ho fatto vedere perché il metodo tutto ambiente e perché aderire a questo metodo perché senza di questo voi mi perdereste delle cioè è veramente concreto rispetto a tanti che abbiamo avuto perché comunque noi oggi abbiamo Ecovadis abbiamo provato diversi altri elementi sui quali ci misuriamo e grazie a questo ci rende ci rende più pragmatici più concreti è qualcosa che riusciamo tutti quanti a capire veramente è più semplice innanzitutto c'è una grande competenza da parte delle persone quindi la compliance normativa è sicuramente di altissimo livello e noi siamo sicuri che la collaborazione che c'è continuerà e continuerà ancora sempre di più con con tutto ambiente grazie grazie mille